Quando troverò il tempo di pensare a Dio? Troppo giovane per pensare a Dio? Troppo sicuro di sé per pensare a Dio? Troppo stanco per pensare a Dio? Troppo felice per pensare a Dio? Troppo impegnato per pensare a Dio? Troppo tardi per pensare a Dio? Perché vivo? Qual è il senso della mia vita? Da dove vengo e dove vado? Perché mi sento sempre inappagato? Anche quando ho tutto ciò che voglio? Chi o che cosa mi manca? Ha detto Antonin Dalmas Sertilange Non avere il tempo per meditare è come non avere il tempo di guardare dove si sta andando perché si è troppo impegnati a camminare. Sertilange 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 Sertilange